Novità, allora, sopracciglia. Quello che vedete è il sopracciglio di cui io già sono tatuata sotto, quindi la forma delle mie sopracciglia è tatuata. In più, sopra, aggiungo, attualmente sto utilizzando una matita di MAC, la confezione è un po' consumata perché io le butto nella borsa in maniera estremamente selvaggia, però è quella con la punta un po' così triangolare, che ha anche lo scopolino dietro e senza matita io non esco più di casa, perché il tatuaggio un po' la chemio secondo me se l'è mangiato, infatti è molto più chiaro di prima e questo effetto sfumatura va a dare un po' di densità laddove sono caduti un po' di peletti, infatti ce l'ho ancora, cioè ce l'ho ancora peli di sopracciglia, però molti sono corti perché alcuni che sono caduti piano piano stanno ricrescendo, altri stanno secondo me lì lì per cadere, ogni tanto sento anche un po' di dolore e di fastidio, e quindi sempre fisso matita per il sopracciglio, questa non è waterproof, però devo essere sincera ha un'ottima tenuta, altrimenti in questo periodo ogni tanto per infoltirle, della essence, quindi costano pochissimo, ci sono questi tipo gel che all'interno hanno anche delle fibre, è una sorta di mascara per sopracciglia gel che ha dei peletti che si attaccano ai tuoi peletti e danno un effetto di infoltimento, anche le ciglia ragazze cadono, cioè quelle che vedete sono 4-5 spiccicate molto incollate di mascara perché praticamente tutte le ciglia più lunghe, folte, le più spesse sono cadute, l'unica più lunga di tutte quante è questa unica che vedete qua sotto, e forse questa all'angoletto qua, altrimenti tutte le altre sono ciglia cortissime, piccolette, quindi credo che la chemio faccia cadere le più spesse, le più lunghe, le altre sono tutte stra piccole, sottilissime, io che faccio, metto, io utilizzo tantissimi prodotti della essence perché ho una marea di prodotti da quintali di mascara, poi un giorno magari vi farò vedere il mio angolo trucco, questi sono i miei mascara, perciò ho veramente di tutto da Yves Saint Laurent, Chanel e tantissimi brand, però con essence mi trovo particolarmente bene, sia perché se ne compro otto quintali di cose non spendo tantissimo, sia perché alcuni prodotti li trovo veramente validi, il prezzo è basso, ma il prezzo basso in questo caso non corrisponde a una bassa qualità, perché considerate che la produzione di essence è tedesca, se non sbaglio, o perlomeno in vari dei loro prodotti, questo per esempio è made in Italy, questo mascara qui, altre cose mi pare che siano fatte anche in Germania, e comunque sono secondo me di una qualità paragonabile a tantissimi prodotti che costano almeno dieci volte tanto, perché quando poi li provi, li testi e vedi le differenze ti rendi conto, poi basta leggere gli ingredienti per capire se un prodotto è valido o no, e tante volte sono gli stessi ingredienti dentro un mascara a 3 euro, sono quelli che trovate a volte in mascara più costosi, la differenza è che il mascara più costoso ha un brand e un packaging che comportano anche altro tipo di dispendi economici, quindi io per le mie ciglia sto utilizzando come base questo, che sarebbe il Volume Hero Power Black, questa è la versione, quindi super nera, non waterproof, e ha questo tipo di scovolino, che mi consente di separarle bene, allungarle abbastanza, passandolo tante 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 volte, quelle ciglia cortissime diventano un po' più lunghe, dopo come secondo mascara utilizzo il mio preferito, sempre di Essence, che è questo, anche questo ha lo scovolino rigido, fatto in questa maniera qui, non so se riuscite a vederlo, e mi dà sempre molto volume, prima quando avevo le ciglia naturali, riuscivo a fare questi effetti ciglia finte, pazzeschi, adesso con pochissime ciglia, sembra che ho le ciglia, cioè sembra che ce l'ho quasi lunghezza normale, da vicino comunque si vede che sono un po' più corte, però immancabile in questo periodo è l'eyeliner, che mi conferisce un po' di espressione allo sguardo, visto che appunto con poche ciglia, e sembro un po' un simpson, anche per il colorito della mia pelle, e tanto per ripetermi, utilizzo sempre di Essence l'eyeliner, che è questo, nella versione waterproof, soprattutto perché a me lacrimano spesso gli occhi, quindi il mascara waterproof lo utilizzo spesso d'estate, d'inverno utilizzo questi, ma se poco poco rido troppo, o mi emoziono, scendono i lacrimoni, perché mi scendono le lacrime anche quando rido, e con questo eyeliner mi trovo molto bene, mi dura tutta la giornata, non devo fare ritocchi, e in genere non mi sporca le palpebre, cioè questo io l'ho messo, tipo, almeno sette ore fa, ed è ancora intatto, senza neanche aver messo il primer, facilissimo da struccare, quindi anche con l'acqua miscellare va via, o con uno struccante bifatico, perciò in questo momento il trucco mi aiuta moltissimo per la questione ciglia e sopracciglia, poi andando avanti non so se ne perderò altre, questo lo vedrò nelle prossime settimane, man mano che andrò avanti con le altre che è mio di taxolo, mentre si rivolse nei capelli, allora questi ciuffi che vedete selvaggi, perché proprio non, cioè li ho lasciati così wild, sono i capellucci che mi stanno rimanendo, se siete pronti, mi imbarazza un po' questa cosa, mi vergogno un pochetto, però coraggio, oramai ho iniziato a farvi vedere tutto, quindi non posso tirarmi indietro, allora come vedete davanti, stempiature di radamento, queste parti qua, dove mi è rimasta solo una leggera peluria corta, questa peluria corta ragazzi, io non so dirvi se sono capellini nuovi, che ecco è andato via il capello, capellini nuovi, o se sia solamente i capelli sottili che avevo già prima, perché quelli lunghi spessi sono caduti tutti, mi sono rimasti solo questi a mo' di pelurietta, gli altri che sono lunghi, gli altri che vedete qua, naturalmente sono molti di meno, si sono diradati, nel frattempo in queste settimane, se io faccio così, potete vedere che iniziano a essere più diradati, la mia fantastica coppoletta qui sopra, non so come si chiama coppoletta, una sorta di papalina ecco, qui su di diradamento, però in linea generale, ho ancora circa il, penso, non so un 40% dei miei capelli, non so quantificare, quello che vi posso dire, è che ancora cadono tantissimo, noi cadono tanti ogni giorno, ogni volta che mi pettino, questa spazzola, l'ho utilizzata oggi per pettinarmi, era pulita, se io vi faccio vedere quello che perdo ogni giorno, e nonostante che ho ancora i capelli, parliamo di queste quantità, tantissimo ragazzi, tantissimo, ma nonostante tutto, ci sono ancora tanti capelli, quindi chi dovesse utilizzare il casco, non vi spaventate, se vedete, tanta caduta, perché, è normale, cioè, avviene proprio una sorta di diradamento generale, quindi cadono tantissimi capelli dappertutto, ma, cioè, comunque rimangono, sono pochi, sono veramente pochi, adesso vedremo poi, nelle prossime settimane, appunto, come andrà, fino alla fine delle, di tutte le chemio, quanto rimarrà, mi avevano detto che, tra la terza e la quarta rossa, si sarebbe dovuta arrestare la caduta, in realtà, questo, diciamo, questo blocco di caduta, purtroppo, nel mio caso, non c'è stato, e, quindi, continuano a cadere, però, in ogni caso, li ho ancora, quindi, devo cercare di, mantenere duro, essere paziente, non farmi scoraggiare, e, e continuare, sto utilizzando, con il taxolo, il casco, sono sempre circa, 30 minuti, di, pre-cooling, quindi, 30 minuti, prima dell'infusione, io, metto il casco, per iniziare a raffreddare, il cuoio capelluto, poi, infusione di taxolo, che dura circa, un'oretta, e, perciò, quindi, 30 minuti, di, pre-raffreddamento, il raffreddamento, poi, durante l'infusione, che è di un'oretta, e, poi, il post-cooling, che sarebbe, dopo, la, la chemio, quindi, raffreddamento post, di altri, 120 minuti, perciò, arriviamo, 180, più, altre 30, comunque, sono circa, tre ore, tre ore, e dieci, tre ore e venti, di, di casco refrigerante, tra quando me lo mettono, quando lo tolgo, e, è tosta, perché utilizzare, poi, il casco, quasi settimanalmente, è tosta, ma, bisogna, essere, determinate, io, lo sono, e, si va avanti, sono, in linea generale, contenta del risultato, questo mi ha dato, la possibilità, tra l'altro, di partecipare, come, tra virgolette, non voglio dire, testimonial, però, come, come, testimonianza, cioè, sì, non come testimonial, ma come testimone, della, del, della, del funzionamento, del, del casco, quando, sono stata, la settimana scorsa, settimana scorsa, ragazzi, ho iniziato a avere difficoltà, con le date, o, due settimane fa, alla, al congresso, oncologico, dell'IOM, e, sono stata, nello stand, Paxman, che, è l'azienda, che si occupa, di, creare, distribuire, anche, in Italia, i caschi, refrigeranti, e, quindi, sono stata, da loro, abbiamo, è capitato, che, alcuni, dottori, si avvicinassero, per chiedere, informazioni, per vedere, se, realmente, funziona, e, naturalmente, un conto, è, parlarne, un conto, è, una persona, sulla quale, ha funzionato, quindi, al momento, in cui, chiedevano informazioni, io, ero lì, a farmi, due chiacchiere, con, con, Filippo, poi, dicevo, guardi, su di me, ha funzionato, mi toglievo, il cappellino, e, vedano il risultato, rimanevano, tutti quanti, abbastanza, sbalorditi, perché, purtroppo, molti oncologi, non, non solo, cioè, alcuni, non conoscono, l'esistenza del casco, chi, lo conosce, non ha avuto, spesso, modo, di vedere, dal vivo, risultati, e, infatti, una delle domande, più frequenti, che molte ragazze, mi fanno, è, appunto, perché, non dicono, che esiste il casco, perché, dicono, che è una cazzata, perché, dicono, che non funziona, in realtà, dicono, che non funziona, una buona parte, lo dice, perché, non conosce, minimamente, il casco, non l'ha mai visto, in vita loro, non hanno avuto, esperienze dirette, o, non hanno visto persone, sulle quali, è funzionato, naturalmente, ci sono, delle percentuali, di rischio, nel senso, non su tutte, il risultato, uguale, ci sono ragazze, che possono mantenere, più capelli di me, altre, che ne hanno persi, invece, molti di più, il risultato, non è uguale, per tutte, mi è capitato, di sentire, qualche ragazza, che ha detto, che su di lei, non ha funzionato, anche se, non ho avuto modo, né di parlarci, dal vivo, né di verificare, che tipo di casco, avessero usato, se l'hanno usato, in tutte le sedute, che tipo di farmaco, perché, purtroppo, a volte, sulla difficoltà del web, è anche verificare, la veridicità, di alcune cose, quando magari, è solo un, non so, un messaggio, una scritta, sul di me, non ha funzionato, punto, non hai modo, di parlare con questa persona, e quindi, non hai idea, se, se abbia realmente, utilizzato, quel tipo di casco, con quel tipo, di impostazioni, di minuti, e altro, non sai, che farmaco ha fatto, quindi, non posso, esprimermi in merito, io, quello che posso fare, è portare la mia testimonianza, avanti, come sto cercando, di fare in questi mesi, per dimostrare, che funziona, per lo meno, su di me ha funzionato, per informare, tutte le persone, che non conoscono, minimamente, l'esistenza, del casco, e soprattutto, per invitare, e sensibilizzare, chi può, a fare, come stiamo cercando, di fare, io, per il Fatebene Fratelli, Teresa, per, a Salerno, per, il San Leonardo, cioè, cercare di attivarsi, per fare, delle raccolte fondi, in passato, un'altra, amica, che si chiama, Elisa, si è data da fare, per, contribuire, attraverso, la, la Lilt, della, sua regione, per, farlo a Padova e Treviso, ci sono tantissime iniziative, già molte città, hanno, delle iniziative, di raccolte fondi, per, i caschi refrigeranti, quindi, se siete interessate, cercate, cercate informazioni, se volete, creare una raccolta fondi, rivolgetevi, ad una, onlus, quindi, a un ente non profit, una onlus, o alla Lilt, della vostra, regione, della vostra città, e, parlate con, chi, possa essere sensibile, all'argomento, e, aiutarvi, per creare, appunto, una raccolta fondi, un casco refrigerante, costa circa, 35, 40 mila euro, più o meno, però, è un costo, una tantum, e, poi, durante l'anno, c'è, qualche costo, di manutenzione, e, una volta, acquistato, e donato, all'ospedale, naturalmente, l'ospedale, deve essere d'accordo, a ricevere, questo, questo casco refrigerante, e, le pazienti, l'utilizzano gratuitamente, cioè, non è un servizio, a pagamento, ed è per questo motivo, che è utile, perché, se, vengono messi a disposizione, i caschi, negli ospedali, e, viene data la possibilità, a più persone, purtroppo, non è per tutte, non è per tutti i tipi di tumore, non è per tutti i tipi di, di casi, e non è per tutti i tipi di persone, perché molte, non sopporterebbero, di stare tre ore, congelate, con la testa, al freddo, soprattutto, chi soffre, di cervicale, mal di testa, e problemi del genere, però, è una possibilità in più, per cercare di dare, un minimo, di normalità, a persone, che già stanno affrontando, una situazione, che purtroppo, ci ha private, della nostra normalità, della nostra vita, della nostra femminilità, di tutto, ci ha stravolte proprio, quindi, è un di più, non è necessario, ma, in questo momento, credo che tutto, ci può aiutare, quindi, è importante, darci, darci da fare, almeno, io, con la mia piccola testimonianza, spero di, di poter raggiungere, comunque, un obiettivo, e, e fare qualcosa, di, di concreto, soprattutto, perché io, solo in questo momento, in cui, lo sto provando, lo sto facendo, e ve lo sto raccontando, posso testimoniare, che funziona, posso dare, un messaggio, credibile, online, sui social, e, e farvi vedere, una, cioè, dal vivo, quella che è la realtà, cioè, quando io dico, l'ho, ho fatto la chemio, settimana scorsa, cioè, ne ho fatte, quattro rosse, nei mesi passati, nei mesi passati, non so, mi stanno venendo, questi accenti, un po' spagnoleggianti, nei messi, e, quindi, cioè, ho ancora i capelli, oggi, posso farvelo vedere, posso parlarvi del casco, e, e cercare di sensibilizzare, più persone possibile, un giorno, quando avrò superato tutto, mi inizieranno a ricrescere, i miei capelli, e, tornerò alla mia vita normale, a voglia, a raccontare, ah no, sai, una volta ho usato il casco, ah, fantastico, ha funzionato, e la gente dice, vabbè, tanto, questo ha finito, già gli stanno crescendo i capelli, cioè, e, e questo è il momento caldo, in cui io posso fare queste cose, questo è il momento in cui, se uno dice, ma, cioè, realmente, cosa accade, io, posso fare un video, e far vedere, mentre faccio la chemio, con il casco addosso, cosa succede, e, e, e perciò, ho preso questo impegno, che mi auguro porti a, a dei risultati, non so quali, non so come, ma, sto, sto cercando di fare, quello che posso, nei modi che posso, in maniera, forse, anche un po', strampalata, e, forse anche ridicola, non lo so, io non so, cosa, vedete voi da casa, e, posso sembrare pazza, posso sembrare, stupida, posso sembrare una sognatrice, io, so, soltanto una cosa, che, ho deciso di, di fare tutto questo, e di metterci la faccia, quindi, potrò essere pazza, ridicola, brava, cattiva, quello che mi pare, l'importante, è che chiunque, sia dall'altro lato, dello schermo, e mi sta ascoltando, se nelle mie parole, trova, conforto, aiuto, io, sono, felice, se, eh, da qualche parte, qualcuno sta ascoltando, queste, questi messaggi, in cui, chiedo di, aumentare le raccolte fondi, per il casco refrigerante, e, posso solo che, essere felice, se qualcuno, vorrà contribuire, a, eh, donare, dei soldi, per, la raccolta che stiamo per iniziare, per il Fatebene Fratelli, di Roma, ragazzi, sono ancora più felice, quindi, cacciate i soldini, vi prego, che è per una giusta causa, e, perciò, tutto, tutto il resto, di cosa pensano gli altri, potrebbe, cioè, preoccuparvi, non lo so, fino a un certo punto, l'importante è che, che, che sto bene io, e che state bene poi, e poi, oh, sarò pazza, non fa niente, sono agitata, mi sa, l'argomento, mi, mi agita, e, e che dirvi, la chiacchierata è lunghissima, non so se, riuscirò a, metterlo tutto insieme, questo video, forse lo dovrò dividere in due parti, ci vediamo, presto, cercherò di essere, un pochino più costante, nel pubblicare i video, e, 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 c'ho anche un po' di arretrati, ragazzi, non vi ho, non mi ho, non ho caricato i video del Bradei, non ho caricato i video della giornata, della, dell'isola rosa, mi sono un po' persa, questa settimana, due settimane in cui, mi sono totalmente persa, piano piano recupero, adesso, datemi un po' di tempo, buona, serata, sto registrando il video che è sera, ma probabilmente lo pubblicherò di giorno, quindi, buongiorno, buonasera, buonanotte, buon pomeriggio, quello che volete, l'importante è che, sia, sempre una, bellissima, giornata, io sono, felice, ogni tanto mi arrabbio, ultimamente, ma, comunque, di base sono felice, e vi auguro di essere felici, altrettanto, ciao,